Come recuperare le foto eliminate da Google Foto Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati sul canale di Wondershare Recoverit Nel video di oggi cercheremo di capire come è possibile recuperare le foto eliminate accidentalmente da Google Foto Tutti quanti utilizziamo Google Foto per conservare e proteggere le immagini a cui teniamo di più Può capitare però che accidentalmente queste vengano eliminate E ci si chiede se è possibile recuperarle oppure no Prima di andare avanti e capire come fare ti ricordiamo di iscriverti al canale Per rimanere aggiornato su tutti quanti i tutorial che possono aiutarti a fronteggere le varie problematiche digitali quotidiane Tornando a noi possiamo dire che è possibile recuperare le foto eliminate da Google Foto E ci sono due modalità diverse Nel primo caso se una foto è stata eliminata da meno di 60 giorni anche accidentalmente viene spostata nel cestino Quindi per recuperarla basta spostarsi, accedere al cestino di Google Foto e ripristinare l'immagine che si desidera ripristinare In alternativa se l'immagine rimane nel cestino per più di 60 giorni potrebbe essere eliminata definitivamente E in questo caso vi servirà un programma di ripristino dati per recuperarla Vediamo di capire come recuperare le foto da Google Foto Come recuperare le foto cancellate da Google Foto Allora, per recuperare le foto cancellate entro i 60 giorni da Google Foto è possibile accedere al cestino E esistono modalità dedicate ad ogni dispositivo Metodo 1 Recuperare le foto dal cestino di Google Foto Passaggio 1 Sul tuo dispositivo Android avvia l'app Google Foto Passaggio 2 Tocca l'opzione Libreria nella parte inferiore dello schermo Passaggio 3 Ora tocca Cestino per aprire la schermata del cestino Passaggio 4 Successivamente scorrere le diverse immagini e selezionare quella che si desidera recuperare Passaggio 5 Infine fare clic sul pulsante Ripristina per ripristinare l'immagine selezionata su Google Foto Metodo 2 Recuperare le immagini cancellate da Google Foto da un iPhone Se possedete un iPhone o un iPad è possibile recuperare le immagini cancellate da Google Foto Seguendo questi semplici step Passaggio 1 Vai su App Store e installa l'app Google Foto Passaggio 2 Avvia l'app e accedi con le credenziali del tuo account Google Passaggio 3 Ancora una volta fai clic sul pulsante Libreria e seleziona Cestino Passaggio 4 Una volta che sei nella cartella Bin Tieni premute le immagini che desideri recuperare e fai clic su Ripristina Questo è tutto Le immagini selezionate verranno ripristinate nell'app Google Foto Tuttavia nel caso in cui non disponessi di uno smartphone in questo momento Cosa potresti fare? Puoi anche recuperare le foto cancellate da Google Foto tramite computer Metodo 3 Recuperare le immagini cancellate da Google Foto tramite computer Passaggio 1 Apri un browser e vai su Photos.Google.com Se non sei ancora loggato accedi con le tue credenziali Passaggio 2 Ora nel pannello di sinistra scegli Cestino Passaggio 3 Fai clic sull'immagine che desideri ripristinare e tocca Ripristina Fino ad ora abbiamo parlato di come recuperare le foto eliminate da Google Foto Entro i 60 giorni e quindi ancora presenti nel cestino Ma nel caso in cui fossero passati i 60 giorni che cosa si potrebbe fare? Cerchiamo di capire il metodo per recuperare le foto oltre i 60 giorni Se devi recuperare un'immagine superati i 60 giorni e che quindi non è più reperibile nel cestino Ti consigliamo di utilizzare un software di recupero dati Come ad esempio Wondershare Recovery Wondershare Recovery è un software estremamente funzionale che ti permette di recuperare Diverse tipologie di formati di file su diversi dispositivi Bisogna notare però che è possibile recuperare i file e le immagini da Google Foto Oltre i 60 giorni soltanto se queste erano presenti anche nella memoria locale del dispositivo Ma ora vediamo come fare Wondershare Recovery è uno strumento di recupero dati Che ti permetterà di recuperare file cancellati accidentalmente con il minimo sforzo Lo strumento supporta tutti i formati di file comuni Il che significa che sarai in grado di recuperare immagini, video, documenti e persino altri file di sistema Ecco come utilizzare Recovery per recuperare file cancellati accidentalmente in Windows Passaggio 1 Installa e avvia Recovery sul tuo computer Collega l'unità USB e selezionala come posizione di destinazione nella schermata principale di Recovery Verrà elencata nella scheda dispositivi esterni Passaggio 2 Fare clic su avanti e Recovery avvierà la scansione dell'unità USB per trovare tutti i file eliminati Sii paziente perché il processo di scansione potrebbe richiedere alcuni secondi per essere completato Passaggio 3 Al termine del processo esaminare i risultati e selezionare i file che si desidera recuperare Quindi fai clic su Ripristina nell'angolo in basso a destra e scegli la cartella di destinazione in cui desideri salvarli Spero che i metodi visti finora ti abbiano aiutato a recuperare le foto cancellate Se così non fosse c'è ancora un'ultima modalità che puoi utilizzare Ovvero contattare l'assistenza di Google Drive Contattando l'assistenza di Google Drive potrai chiedere appunto a Google se può recuperare le immagini che sono state cancellate In questo caso però Google prenderà in carico la tua richiesta e se lo riterrà opportuno recupererà le immagini Passaggio 1 Vai alla pagina della guida ufficiale di Google Drive e seleziona file mancanti o eliminati Passaggio 2 Nella schermata successiva puoi scegliere richiedi chat o assistenza via email per contattare l'assistenza clienti Condividi semplicemente la tua situazione e se Google la trova abbastanza genuina ti aiuterà a recuperare facilmente le immagini Spero che i metodi presentati vi abbiano aiutato a recuperare le vostre immagini E rimanete collegati e aggiornati per ulteriori video Alla prossima Alla prossima